Un paio di cose... Chi è che cercavamo? Il signor Enzo, del cortocircuito di Roma. E non l'abbiamo trovato. Ma adesso lo andiamo a cercare, perché è importante. Perché è importante? Perché... Ti ha detto l'Emilio. E lei che dice pergamo in tal senso? Che è importante. È importante, molto importante. Per il motivo di qui sopra, credo. No, noi lo stavamo cercando. In realtà, non l'abbiamo ancora trovato, ma... Ce l'avamo vicini. Ce l'avamo vicini. Ne abbiamo trovati altri, però. Somiglianti. Somiglianti. Ve lo faremo vedere presto al prossimo giro. Per il momento abbiamo trovato ogni genere di maestri. Tranne Enzo. Non diremo perché, ma Enzo diventerà il nostro prossimo obiettivo nelle prossime 18 ore. Assolutamente. Partita la caccia al signor Enzo. Partita la caccia al signor Enzo. Sappiatelo e cercatelo anche voi. Dopo la pubblicità. Grazie. Grazie.